è poseidone il nome scelto per la nuova piscina comunale di capaccio prossima all'inaugurazione all'apertura la nuova denominazione scaturita dalla procedura concorsuale il nome lo scegli tu approvata con delibera di giunta comunale e realizzata di concerto con la società carres mandataria dell'ati che ha avuto in assegnazione la gestione della nuova piscina comunale il concorso è stato suddiviso in due fasi la prima fase destinata alla diffusione del concorso e dalla selezione dei primi tre tra i sei nomi individuati acqua nautis la piscina del villaggio baia z il tuffatore blu poseidone il tuffatore la seconda fase invece ha visto gli alunni che frequentano gli istituti scolastici del territorio selezionare uno tra i tre nomi più votati acqua nautis il tuffatore poseidone risultato vincente quest'ultimo con 925 preferenze è stata un'iniziativa divertente molto comunicativa dichiara il sindaco italo vozza che ha stimolato la partecipazione della gente nella prima fase e degli studenti della nostra cittadina nel momento decisivo per la scelta finale lo spirito di questo concorso è stato pienamente condiviso dalla popolazione lo testimonia l'alto numero di coloro i quali hanno liberamente inteso partecipare con la loro preferenza da qui a poche settimane inaugureremo ufficialmente la piscina a capaccio scalo che nasce sotto un ottimo auspicio testimoniato dalla grande partecipazione alla scelta per la sua denominazione un segno evidente di quanto sentita ed attesa da tutti e questa struttura un impianto importante sia per la socialità che per la pratica sportiva nella nostra comunità un obiettivo che l'amministrazione da me guidata ha saputo perseguire e realizzare con grande celerità grazie a tutti